E' morto a 69 anni, due giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer, una vicenda in cui i contorni sono ancora tutti da chiarire ma sulla quale la procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta per far piena luce. E' successo nel Valdarno a Retino alla fine dello scorso mese. L'uomo aveva ricevuto la prima dose del siero anti-covid il 27 aprile a Montevarchi, rientrando nella fascia d'età a cui era stata data la possibilità di prenotarsi. Poi era tornato a casa e lì a distanza di qualche giorno sarebbero subentrati sintomi preoccupanti fino a quando la situazione è precipitata nella notte tra giovedì e venerdì con la morte del 69enne. Da qui l'esposto dei familiari in procura, il fascicolo contro i gnoti è stato aperto dalla PM Giulia Maggiore per capire gli esatti motivi del decesso, l'eventuale collegamento con la vaccinazione o meno ed attribuire eventuali responsabilità. La procura ha disposto anche l'autopsia fondamentale, infatti in questo caso sarà l'esito dell'esame autoptico eseguito dal dottor Marco Di Paolo dell'Università di Pisa.